buongiorno oggi parliamo di tecnologia e medicina ne parliamo con il dottor perrino dottore buongiorno grazie di essere con noi dottore amministratore delegato di metroniche parliamo di quello che può essere la tecnologia un'opportunità in più per i pazienti oggi perché sicuramente le innovazioni device le strumentazioni chirurgiche di ultima generazione hanno molto cambiato l'approccio certamente l'anno direi che hanno cambiato in maniera decisiva negli ultimi negli ultimi 30 40 anni cos'è innovazione io partirei forse da definire cosa per metroniche innovazione innovazione tale se riesce a coniugare tre bisogni oggi del sistema il primo è quello dell'accesso cioè mettere la tecnologia a disposizione del più ampia parte della popolazione in maniera facile il secondo è quello di della qualità clinica quindi cercare di migliorare i risultati clinici con una maggiore efficacia aiutando ovviamente gli operatori a lavorare in maniera sempre più semplice e la terza oggi diciamo crescente in termini di bisogno per il sistema è quello di ridurre i costi per cui questo l'abbiamo fatto nostro sin dall'inizio metroniche fin dal 1960 ha assunto un 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 commitment una promessa verso la comunità cui si rivolgeva di questo di questo genere come l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto nella prima parte della nostra storia nell'ambito del cardiovascolare e muovendoci successivamente alla parte della della stimolazione più in generale quindi non solo cuore e successivamente due anni fa completando l'integrazione la più grande che sia mai venuta nel nel settore del medical devices nel mondo l'acquisizione di covide con la quale oggi contiamo possiamo dire di contare sul più grande il portafoglio chirurgico disponibile quindi abbiamo ampliato la nostra presenza al di fuori di quei campi che menzionavo prima anche in tutta la parte della chirurgia mininvasiva della chirurgia ginecologica della colorettale quindi insomma avendo un approccio diciamo total body dalla testa dalla testa ai piedi l'importanza anche di una chirurgia mininvasiva per far sì che ci siano tempi di recupero minori che ci sia una miglior qualità di vita e quindi non è soltanto una tecnologia che va incontro a un'esigenza tecnica ma va incontro proprio invece a un bisogno del paziente è fondamentalmente il paziente noi guardiamo il paziente il nostro modello di business è paziente centrico quindi come come dicevo prima vogliamo far sì che la qualità della vita a volte anche la sopravvivenza sia migliorata questo è il nostro obiettivo primario successivamente guardiamo l'attività la semplificazione procedurale tutto ciò che avviene all'interno della sala operatoria in tempi di semplicità di sicurezza di efficacia anche con l'attività di formazione rivolte al personale medico paramedico e non ultimo il costo quindi tutto questo va nell'interesse del paziente come dicevo prima per aumentare la presenza delle nostre tecnologie la nostra innovazione mette a disposizione di tutti tutti quelli che ne hanno bisogno ovviamente. E anche l'importanza appunto di far sì che comunque ci sia una curva di apprendimento che possa consentire alle nuove generazioni di medici di poter offrire questa opportunità di chirurgia al maggior numero di pazienti? Certamente sì la gran parte del nostro budget si rivolge all'appunto si viene destinato alla formazione sin da sempre ricerca e formazione investiamo molti soldi nel mondo e su questo siamo società leader anche per questo e perché lo facciamo perché appunto la tecnologia diventa nemica se non la si sa utilizzare per cui metterla nelle mani giuste formando e accompagnando gli operatori fin quando è necessario contribuendo oggi sempre più anche al networking quindi la condivisione di esperienze tutto questo è molto altro fa parte di quella appunto di mettere quell'accesso più semplificato che dobbiamo dobbiamo consentire di nuovo nella logica del paziente quindi essere sicuri di ricevere la migliore migliore trattamento chirurgico dal migliore operatore al più basso costo che vuol dire anche ottimizzare un percorso anche per il sistema salute in qualche modo assolutamente sì tant'è vero che anche nel nostro modello di business oggi noi come società leader altre società diciamo stanno guardando con la stessa prospettiva alla nostra stiamo cercando di sviluppare dei modelli, degli approcci alla chirurgia che non sono soltanto prodotto centrica ma anche processo, guardano il processo quindi abbiamo già iniziato anche con delle acquisizioni alla gestione di sale di emodinamica piuttosto che di sale operatorie che hanno appunto questo obiettivo cioè quello di non mettere soltanto a disposizione una tecnologia ma mettere a disposizione le nostre competenze i nostri strumenti di lavoro per aumentare l'efficacia quindi non si guarda più l'atto chirurgico ma si guarda il processo all'interno di un certo ambito procedurale clinico accanto alla chirurgia un grande capitolo è anche quello invece delle malattie croniche che hanno bisogno di devices che possono migliorare proprio invece la quotidianità anche in questo credo che Metroniche offre una grandissima opportunità a molti pazienti vediamo quali sono in questo momento le innovazioni più importanti bene, ci tengo innanzitutto a sottolineare che la nostra è una la nostra storia di successo come società leader in quasi tutte le specialità in cui siamo presenti siamo leader se non numero due per così dire ma perché questo? Perché abbiamo costantemente negli ultimi 60 anni implementato quello che avevamo ovviamente i casi che farò adesso sono degli esempi ma diciamo tanto è stato fatto negli ultimi anni nelle specialità che menzionavo prima per farne alcuni diciamo io partirei innanzitutto per esempio dalla storia di Metroniche una storia che si poggia sul defibrillatore pacemaker il pacemaker, questi sono devices che sono se voi ricordate tanto anni fa venivano impiantati erano invasivi, necessitavano di un atto chirurgico oggi abbiamo lanciato due anni fa il Micra che è il più piccolo pacemaker sul mercato più piccolo di una monetina di euro che viene introdotto attraverso un'arteria femorale quindi assolutamente mininvasivo non necessario di intervento chirurgico ma in una semplice sala di emodinamica viene posizionato e addirittura può essere anche riposizionato e non ha bisogno di cavi di batterie un altro esempio è il microinfusore che consente la gestione del monitoraggio e la visualizzazione quindi sul display dello stesso microinfusore dei livelli di glucosio e quindi riesce a fermare a gestire automaticamente l'iniezione di insulina questo ovviamente è un primo step che ci porterà come molti sanno verso un replacement del pancreas artificiale un primo step sarà compiuto intermedio già l'anno prossimo consentendo appunto la gestione 24-24 del monitoraggio del glucosio e per arrivare noi speriamo in tempi rapidi al così atteso pancreas artificiale ma ci sono altri esempi tutta l'area della neuromodulazione che quindi si applica in diversi ambiti dallo spinale quindi alleviando uno dei problemi di massa devo dire la popolazione oggi quindi alleviando il dolore a volte anche in maniera definitiva fino alla quindi dal neurologico che ha un impatto notevolissimo nei malati di Parkinson a volte anche diciamo in maniera definitiva fino ad arrivare alla gestione delle continenze anche questo sono questi esempi di tecnologie che oggi sono già disponibili che abbiamo costantemente implementato ma che oggi non vengono utilizzate secondo quelle che sono le linee guida non ultimo parerei proprio in questo momento sta avvenendo il lancio della Pilcam che è una videocamera che già esisteva ma che abbiamo implementato e adesso lanciamo anche con la configurazione per il morbo di Crohn una videocamera che ha la dimensione di una compressa antibiotica che segue il canale digestivo e riesce a trasmettere immagini all'esterno consentendo quindi di evitare in tutto e in parte in certe indicazioni quello che oggi è molto più traumatico alla colonoscopia e magari come noi crediamo appunto il lancio che sta avvenendo in questo momento poter impattare in un disease importante che è il morbo di Crohn ma vorrei terminare dicendo che nei prossimi tre anni abbiamo già a portafoglio circa un centinaio di lanci altrettanto importanti per cui continuiamo questo commitment questa promessa di continuare a rinnovare C'è da aspettarsi grandi novità quindi su questo ci riaggiorneremo senz'altro ma credo che da tutto quello che abbiamo detto emerga anche il fatto che ci possa essere la possibilità di andare ad incidere non solo sul quotidiano ma anche sulla qualità di vita futura dei pazienti perché penso a un microninfusore, un giovane che comincia ad usarlo ci sarà prevenzione comunque di quelle potranno essere le complicanze ci sarà una migliore qualità di vita oggi ma anche in futuro quindi è un'agittata, è un investimento sul futuro è un investimento sul futuro anche perché guardiamo sempre più alla gestione del benessere piuttosto che alla gestione del trattamento quindi guardare il pre, il durante e il post e quindi guardare il paziente a 360 gradi questa è la nostra promessa come società leader di questo settore mettere il paziente al centro grazie alla tecnologia credo che sia un connubio perfetto per poter in qualche maniera ottimizzare i percorsi di cura quello sempre, lo è stato sin dalla nostra nascita bene, grazie mille dottore grazie a voi buona giornata, grazie grazie